tenuta isola international trotting center migliorino pisano video audio foto mix di walter giusti signore e signori amici tutti buona visione migliorino pisano 17 luglio 2021 11 luglio 2021 l'animiva l'animiva ambita ... ... ... ... ... Permesso. Buonasera. Oh, ciao, come stai? Che mi hai riconosciuto. Bene, bene. Ti vedo bene. Non c'è un piatto punto? Buonasera. 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 No me tuonasapaini. 대추. Come pasta di pescara. Akanon tuvo un peixe. Buonasera. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.